Gagliani e Raffaele hanno dichiarato che bisogna ritornare a giocare per regolarità sportiva e perché il calcio rischierebbe altrimenti di esplodere. Sei d'accordo? Penso che sia giusto far ripartire un motore così importante per l'Italia. Alla base di tutto penso che ci debba essere ovviamente la salute e quindi penso che tutte le autorità, tutti gli organi competenti cercheranno il modo per mettere in salute e al sicuro soprattutto tutto un ambiente. Perché comunque nel calcio si muovono centinaia di persone, non sarà facile. Ed il giorno in cui la Serie A Raffaele dovrebbe riprendere gli allenamenti, la Serie C potrebbe far canare il sipario sulla stagione. Cosa ne pensi? Sappiamo tutti che comunque comanda sempre, è brutto dirlo, ma comanda sempre il dio denaro in questi casi e sappiamo che gli introiti che ci sono in Serie A e in Serie B non ci sono in Lega Pro, nonostante comunque è una Lega molto importante. Il mio auspicio sarebbe che finissero tutti i campionati, però mi rendo conto che è davvero difficile che possa accadere tutto ciò e penso che alla fine facciano finire i campionati solo le leghe magari più importanti e magari la Lega Pro penso che faranno solo le promozioni a questo punto come sentivo nei giorni scorsi. Poi ti ripeto, ogni giorno ci sono notizie nuove. Poi ti ripeto, ogni giorno ci sono notizie nuove.